buongiorno a tutti e benvenuti da four wheel drive italia oggi andiamo a vedere insieme una bellissima jeep è una wrangler tj del 2005 con motore 2.4 alla quale abbiamo portato una serie di modifiche la più importante è quella che comporta poi la possibilità di mettere i pneumatici maggiorati che è un assetto da due pollici e mezzo molto molto tecnico dove abbiamo messo molle rialzate ammortizzatori otto puntoni regolabili la parola anteriore e la parola posteriore regolabile questo fa sì che si possano ripristinare tutte le geometrie originali e quindi l'esperienza di guida rispetto a un assetto fatto in qualche maniera è completamente diversa anzi proprio è migliorato rispetto all'assetto originale come dicevo appunto il fatto di rialzarla permette la possibilità di installare pneumatici maggiorati in questo caso sono delle 33 12 e mezzo r15 con i sui bei cerchi con l'offset corretto ed insieme è una preparazione diciamo relativamente entry level perché appunto l'assetto è veramente tecnico abbastanza equilibrata la macchina è rimasta pulita e sostanzialmente non non è stata completamente stravolta un'altra modifica molto importante che abbiamo fatto a questa questa vettura è stata quella dell'installazione di di coppie coniche rapporto 4 56 in maniera tale da ripristinare i rapporti originali questa è una modifica che è fondamentale che non tutti spesso fanno quello che è importante assolutamente il fatto che tutta questa preparazione omologata se volete chiedermi un consiglio su una preparazione simile sono a vostra disposizione il mio recapito whatsapp è 338 73 12 725